Una cosa che ha sorpreso molto gli avversari è questa abilità di Pioli nel cambiare le indicazioni tattiche e un pochino il ruolo di tutti i giocatori. Tu in carriera puoi tenerti coperti così già Pioli sa dove può schierarti. Franchement, ho quasi gioché a tutti i posti. Ho partito in formazione a Parigi, c'era il defensor centrale. Ho partito in regista, poi in numero 8, tre quartista. Ho gioché sui cote in equipe de France. Ho sempre gioché sui centre-droite o centre-gauche. Ho anche gioché in numero 9, quindi il coach è un coach che s'adapte molto nel match. Il ha questa capacità di vedere come può poterciare l'adversario. Quindi, se mi faccio, non mi faccio più a n'importe quel sistema. Donnez-mi solo il maio che c'è noire e poi io vengo a fondo.